Non esistono anticorpi, la popolazione è completamente scoperta. I coronavirus respiratori sono sempre dei virus che non provocano delle forme cliniche molto gravi. È un virus molto contagioso e quindi che cosa possiamo fare noi contro un virus ad alta contagiosità? Possiamo mettere in atto la quarantena, che è esattamente quello che sta facendo la Cina. La Cina sta cercando di proteggere gli altri paesi comportandosi un po' come gli eroi di Chernobyl e di Fukushima. Nel senso che se la Cina non avesse messo in quarantena le province, in questo momento ci sarebbero molti più infetti in giro per il mondo. Quando un virus trova un paese che è magari fragile dal punto di vista dei servizi sanitari e invade questo paese con un tasso di attacco importante, si fermano i servizi primari. Io vi prego, non perdete la fiducia nelle istituzioni, perché nei momenti di emergenza bisogna ascoltare le istruzioni e le linee guida che arrivano da dei centri di crisi che sanno quello che stanno facendo. Quindi la cosa più brutta che può accadere è che si perda la fiducia nelle istituzioni e io credo che i media hanno un ruolo importantissimo in questo e che quindi ci sia il panico. Le aziende che hanno la possibilità di lavorare con il telelavoro e che quindi possono aiutare il paese a rispondere qualora ci dovesse essere un contagio importante e quindi bisogna lasciare le persone a casa perché bisogna cercare di evitare di alimentare il contagio, per piacere cominciate a pensarci. Cioè questa non è una cosa che fra una settimana andrà via, questa è un'infezione che arriverà in Italia, farà il giro del mondo, combinerà dei guai importanti nei paesi diciamo più poveri. Non è finita, tutt'altro. No, e quindi bisogna organizzarsi.